E poi ci sono nastrini, a questo punto ci metti il raso, e della luce di finta e di finta, a questo punto tu devi lasciarli con i cru. Senti i nastrini, va bene i cru anche i... Il menello e i nastrini. Tu potessi questi qua, per uscire questi, se noi volessimo potessi anche fare accanto un nastrino a cru. Così lo raggiudiamo, se lo so con la procedura. In modo che esce il merletto e poi ci metti il cuore qua. E questi qua sono tutti i nastrini, poi c'è questa specie di mantellina, che è proprio cortissima questa, arriva qua, e poi questo qua le produzioni sono importanti, la manica di potenza censo, questi sono tutti i nastrini sempre di raso. Nastrini e merletto, ovviamente. Si, nastrini e merletto, sì. E poi abbiamo, si, abbiamo un bifurcchettino e poi abbiamo tutto il merletto, il tessuto con una funda di gemerletto. Perché sia molto ricco questo, ovviamente è solo questo. E poi c'è questo grande pollo. Io partirei dalla GPR sotto. Si. E ti so investire. Potremmo fare una cosa, tu mi puoi fare una specie di copri... Che? Chi a chi? La... So solo che le davanti... Si, solo su questo effettino... So, le davanti che lei toglie e mette. Per il primo e il secondo atto. In modo che, come se fosse un aglio pezzato. Allora, ci mettiamo il nuovo domani, ci sono delle fai... E poi ripetere... E la cittina... Ma sai, ce ne vanno, guarda, uno, tre... E poi dipende. E poi, magari, due e quattro. E non di più. Va bene. In modo che... E questo viene... Se lo fai con un olor crema direttamente cru, eh... Questo qua... Come se fosse un aglio pezzato. Sì. E questo qua, tutto è chiuso davanti a me con... Tu ovviamente fai in modo che... Questo lato arrivi qua nel fianco. In modo che lei... Quando lei cammina... Ovviamente non si mette nel fianco. Quindi tu la fai arrivare qua... Ma io finito che le metto qua. Nel fianco sono al centro. Certo. Poi c'avevi visto che qui c'è questo effettivo di taglio. Sì. In questo modo. Che potessi accendiamo così il seno. Quello è meglio proprio. E il sottoseno è stato, diciamo. E poi continua, tutto quanto... Con la stessa forma che abbiamo fatto al vestito. Sì. Tutto sagonato. E poi le fai che... L'importante è che noi abbiamo la possibilità che questo lato arriva qua. In modo che qui cazzo tutto all'interno. Sì. In modo che qui quando le cammine si muove e non si vede niente. Sì. Direi che vado ad un vestito... E poi c'è questa mantenita così. Che poi potessi arrivare qua. Sì. Va bene. Che deve sottile tutta la scollatura. Sì. Sì. E poi c'è questo pollo. Che ovviamente... Che parte da qua. Che parte da qua. Che è tutto qua di merletti. Ma piccolo lo fa. E poi i merletti che stanno in alto. Sì. E quella è la base. Ma perché i merletti scegli tu. Ma non è che vuole essere... Questi quali ovviamente. Deve essere molto ricca. Sì. La Vestaglia. È ovvio. Però così... Però Marnetto hai fatto vedere qualche cosa? No. Chi voleva scegliere? No, vuole scegliere voi. Non dico... Perché tu c'erano... I guattoni belli, no? Abbiamo scegliato. Lo guattoni non ce n'è qua. No. E questo qua lo mettiamo un po' in orbita, no? Allora, scegliamo noi altri. E poi c'è la mente Giuseppe. Che facciamo? No. Non necessario. Non può. Se tu devi finire il tutto con il marnetto. Con il marnetto. E poi sarebbe bello, scusami, guarda qua. Tu vedete che qua è tutto smarlato? Ok. Ora io sto vedendo. Se noi riuscissimo... A forse che tu me la fai a spicchie. A forse che me la fai a spicchie. Eh. Fare di finire la mantellina così? Se noi facessimo tutta la mantellina così... Giuseppe, sarebbe bellissimo. Eh, allora... Però dobbiamo fare appunto a spicchie. A spicchie. Va bene. Non è che l'Italia... L'Italia è molto carina questa cosa qua. Certo. Già l'ha finita così. In ogni caso questa cosa qua non è che la possiamo usare molto. Possiamo usare, no, per il sotto, vabbè. Ma la mantellina è matematica. Non riesco più la mantellina che il sotto. Ma il sotto diventa più complicato. Esatto. E questa qua la facciamo arricciare. Sì, è tutta arricciare. Sotto arricciare poi viene arricciata. Tu la fai a potere fino a qua. Sì, ma questa è trasparente. Perfetto. Sì, tutto sommato potente. Ok. 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 Ok.